Salve, sono professoressa Cinzia Luciano, docente di scienze nel corso Ippocrate del liceo classico Pietro Giannone. Il nostro corso Ippocrate è un corso di potenziamento di materie scientifiche e consiste nell'aggiunta di due ore settimanali alle due ore ordinarie dei normali corsi di studio del liceo classico. Quando poi ci troveremo in un futuro a dover scegliere la facoltà che dovremo poi effettivamente frequentare, consiglio il corso Ippocrate dal momento che noi avremo una base classica ma avremo anche un potenziamento su quelle che sono le scienze, di conseguenza potremo accedere anche a medicina, ingegneria, ingegneria biometrica. Il corso Ippocrate è un corso dove grazie alla mente possiamo fare un grande viaggio a partire dalle più piccole particelle come atomi e molecole che ci compongono e che ci formano individualmente fino ad arrivare alla splendida immensità dell'universo. Il nostro corso ha come fine anche quello di aiutare i ragazzi a comprendere la reale attitudine verso discipline scientifiche perché più delle volte coloro che si iscrivono a questo ampliamento sono proiettati verso uno studio futuro che sia medicina piuttosto che ingegneria biomedica o comunque verso attività scientifiche. Questo corso Ippocrate è in completa sinergia con lo studio umanistico che quindi consente un futuro ingresso in qualunque tipo di facoltà scientifica in quanto appunto sono abituati ad osservare qualunque aspetto scientifico o non a 360 gradi. grazie a tutti